Sono molto felice perché ho avuto grandissima adessione di tutti e questo mi onora. Buongiorno a tutti. E' sempre bello venire a scoprire campi nuovi, anche se questo lo conoscevo già. Poi Oscar Carona che è l'organizzatore, devo dire che ci mette il cuore in questi progetti che funzionano sempre perché sono ben organizzati, le squadre sono simpatiche, ci si trova dopo il polo anche a far cene divertenti. Quindi tutto sommato un piacevolissimo weekend in Umbria.